Qual è il momento giusto per chiudere una posizione per vendere un'azione in cui abbiamo investito? È di questo argomento che voglio parlarvi in questo video portandovi due esempi concreti. Infatti in questa settimana ho chiuso due posizioni nel mio portafoglio gestito sulla piattaforma di Toro e queste due posizioni sono state chiuse per due motivi completamente diversi. Ovviamente non sempre i motivi per chiudere una posizione sono gli stessi, il motivo non è sempre solo il guadagno su una posizione ma ci possono essere obiettivi di bilanciamento del portafoglio, ci possono essere obiettivi legati ai fondamentali delle azioni, ci possono essere anche obiettivi legati semplicemente al prezzo, all'andamento della price action quindi di come si muove sostanzialmente il prezzo sul mercato. Andiamo quindi a studiare questi due casi reali per cercare di scoprire qualcosa di più e diventare ogni giorno di più investitori sempre più consapevoli. Sigla e cominciamo! Eccoci qui quindi siamo ovviamente sulla piattaforma di Toro, questo è il portafoglio pubblico sulla piattaforma quindi chiunque volesse vederlo trovate qui sotto in descrizione i link che vi portano direttamente al portafoglio, potete venire a vedere statistiche, qualsiasi cosa? E proprio all'interno del portafoglio se andiamo qui sulla sezione cronologia vediamo appunto quelle che sono state le ultime movimentazioni. Chi segue già la live tutti i mesi infatti verso intorno al 17 del mese facciamo una live facendo gli acquisti in live appunto su questo portafoglio saprete già che abbiamo venduto la posizione su BlackRock. A questa posizione si è aggiunta un'altra vendita che ho fatto dopo quella live ed è stata la vendita di Rio Tinto una vendita effettuata il 20 di luglio. Ovviamente tutte le operazioni che prima fino a qualche mese fa facevamo solo esclusivamente in live adesso come spiegato appunto dato che ormai il core del portafoglio è stato costruito e tramite le posizioni satellite andremo a cercare di andare anche ad avere un extra rendimento sul portafoglio, queste operazioni di extra rendimento verranno gestite ovviamente fuori dall'elaio perché lì bisogna da un certo punto di vista cogliere anche un po' il momento o comunque fare delle operazioni un po' più di fino che non è il semplice diciamo piano di accumulo invece è basato sull'analisi fondamentale che facciamo con la parte con lo zoccolo duro del portafoglio quindi ricapitolando andiamo a vedere cosa è successo sia su BlackRock sia sul Rio Tinto perché appunto come vi anticipavo sono due vendite ma basate su due principi completamente diversi quindi andiamo a capire bene perché ho venduto una e perché ho venduto l'altra cominciamo proprio da BlackRock che è l'azienda che ho venduto proprio durante la live mi sono preparato qui su TradingView anche una schermata e faccio vedere i prezzi dove queste linee tratteggiate verde chiaro sono i prezzi di ingresso quindi su BlackRock avevamo comprato due posizioni, eravamo entrati in due tranche, una intorno ai 480 dollari una intorno ai 508 e poi abbiamo chiuso entrambe le posizioni invece qui sopra 587 siamo stati anche fortunati perché subito dopo c'è stato un piccolo ritracciamento quindi andiamo a vedere come abbiamo chiuso praticamente sui massimi storici di questa società qui abbiamo un grafico dal 2009 vedete come dal 2009 a oggi praticamente siamo andati a vendere sui massimi storici della price action di questa azienda mentre eravamo entrati intorno a queste posizioni che erano appunto delle posizioni comunque a mio avviso buone già di ingresso andando a considerare appunto che stiamo davanti ad un'azienda che è comunque in crescita e infatti non è stata una chiusura perché l'azienda non ha più prospettive anzi io continuo a credere che BlackRock sia un'ottima azienda andiamo a vederla subito vi voglio giusto far vedere dei dati quindi andiamo qui sulla posizione statistiche abbiamo ancora un PA intorno ai 20 è un'azienda che ci dà anche del dividendo 227 in questo momento comprandola a questi prezzi quindi comunque avevamo anche un dividendo abbastanza buono andando a vedere il fatturato guardate come il fatturato continui a crescere BlackRock per chi non lo sapesse è un'azienda che è una società finanziaria è uno dei principali fondi a livello mondiale che creano anche gli ETF che noi andiamo a comprare quindi comunque insieme a Vanguard sono le due principali aziende a livello mondiale del settore quindi non è che io non creda più nell'azienda anzi ci credo ancora assolutamente guardate questo fatturato in crescita guardate gli utili l'azienda ha tutte le potenzialità per continuare ad andare su con questa price action quindi il prezzo mi viene di fare questa ipotesi comunque secondo me l'azienda continuerà a crescere lo suo valore quindi il prezzo continuerà a crescere ma quindi mi chiederete perché allora l'hai venduta in questo momento nonostante è vero abbiamo fatto un gain intorno al 18% però in realtà ho venduto questa azienda per aprire una nuova posizione la nuova posizione che abbiamo aperto è questo ETF XLF XLF è un ETF che riguarda appunto tutte le aziende finanziarie molte aziende finanziarie quindi legate al settore della finanza al cui interno c'è anche BlackRock e non solo infatti se andate sul sito Track Insight potete scriverete appunto XLF è un sito che vi gestisce tutti gli ETF a livello mondiale quindi qua potete vedere tutti gli ETF a livello mondiale le top 15 aziende che sono all'interno di questo ETF a partire da Berkshire Hathaway passando per JP Morgan Bank of America, Citigroup, Wells Fargo e guardate qui c'è proprio BlackRock al 3,22% quindi perché ho voluto fare questo cambio? semplicemente perché dato che la posizione in ambito finanzia voglio che sia una posizione all'interno del mio core del portafoglio quindi sia una posizione assolutamente forte nel portafoglio non ho voluto gestirla con una singola azienda e ho preferito quindi adesso cambiare, inserire l'ETF portarmi dentro una struttura più forte, più importante e quindi andare a consolidare la parte core del portafoglio in modo da diminuire il nostro rischio avere un investimento più forte, più consolidato, più maturo almeno nella sua parte fondamentale, nella parte core mentre appunto andremo a gestire l'extra rendimento adesso con il nuovo bilanciamento del portafoglio con l'inserimento delle aziende cinese e così via ma vi rimando alla live, magari ve la lascio qui sopra linkata per vedere l'ultimo aggiornamento del portafoglio in modo tale da avere appunto una struttura molto più forte quindi anche se abbiamo avuto, ripeto, un guadagno al 18% in realtà la chiusura di questa azienda è stata semplicemente dettata dal cambio con una posizione ancora più solida data dall'ETF a livello finance bene, completamente diverso invece è stato il ragionamento per quanto riguarda la chiusura sul Rio Tinto sul Rio Tinto invece, vedete, avevamo aperto una posizione ad aprile è stata una delle primissime aziende che è entrata all'interno del portafoglio e l'abbiamo chiusa invece appunto il 20 di luglio e qui abbiamo fatto anche qui un bel guadagno perché siamo andati a guadagnare il 28,90% anche sul Rio Tinto infatti se andiamo a prenderla sul grafico e andiamo a vedere appunto la price action di Rio Tinto ci rendiamo conto come sempre questa linea verde chiaro rappresenta il nostro ingresso la linea verde scuro rappresenta la nostra uscita, la nostra vendita vediamo come dal 2009 ad oggi praticamente avevamo acquistato l'azienda su questa struttura di minimi relativi perché ovviamente poi c'è stato qui il 2016 e ovviamente anche il marzo 2019 con la pandemia ovviamente abbiamo avuto il croli dei mercati ma siamo entrati su queste strutture di minimi relativi che comunque erano i minimi dell'anno prima e degli anni precedenti e guardate dove siamo usciti siamo usciti intorno al prezzo di 61 dollari che rappresenta praticamente i massimi per questa azienda fin dal 2012 sostanzialmente c'è stato solo questo periodo intorno al 2011 dove l'azienda ha avuto dei prezzi più alti ma praticamente possiamo definirli quasi dei massimi storici quindi anche in questo caso l'abbiamo presa sui minimi praticamente degli ultimi dieci anni e l'abbiamo venduta sui massimi degli ultimi dieci anni perché invece l'abbiamo venduta l'abbiamo come è successo con BlackRock sostituita con qualcos'altro in realtà no perché per quanto riguarda Rio Tinto voglio portarvi anche in questo caso a vedere quello che sta succedendo a livello di fatturati Rio Tinto a differenza di BlackRock nonostante in questo momento abbia un PE comunque assolutamente vantaggioso 7,75 è un'azienda che dà tanto dividendo è un'azienda principalmente che viene comprata per i dividendi siamo intorno al 5% di dividendi nonostante questi prezzi alti quindi abbiamo già qui un dividendo bello alto e figuratevi avevamo un dividendo ancora più alto dato che noi l'abbiamo comprato a dei prezzi ancora più bassi però voglio farvi vedere quello che è successo al fatturato guardate il fatturato dal 2007 al 2019 come è sostanzialmente stabile intorno ai 40 miliardi di dollari è un'azienda Rio Tinto ormai matura comunque sta in un mercato consolidato è un'azienda che a differenza di BlackRock non ha tante potenzialità di crescita quindi in questo caso questo prezzo è almeno nella mia modesta opinione uno dei massimi prezzi che l'azienda potrà raggiungere quindi in questo caso ho preferito andare a chiudere questa posizione portandomi a casa questo guadagno praticamente del 30% e userò questo capitale per aprire invece una nuova posizione in un'azienda analoga ma analoga come caratteristiche non in questo caso nello stesso settore dove abbiamo di nuovo una situazione di price action differente opposta che quindi ci possa dare delle aspettative di guadagno proprio come abbiamo realizzato con Rio Tinto queste operazioni ovviamente come già vi ho detto per seguirle farò magari anche dei video dedicati ma chi le volesse seguire deve per forza copiare il portafoglio qui sulla piattaforma perché ovviamente non le posso fare tutte live perché ovviamente sono operazioni che vanno fatte in funzione dell'andamento dei mercati quindi vi lascio se trovate sempre qui sotto tutti i link per arrivare sulla piattaforma ed eventualmente copiare il portafoglio ovviamente non sono consigli finanziari non sono un consulente finanziario quindi studiate bene siate consapevoli di quello che è l'investimento di quelli che sono gli investimenti e di come fare questi investimenti un'ultima informazione ovviamente Rio Tinto era entrata inizialmente all'interno del portafoglio proprio perché rappresentava quella parte di investimento sulle materie prime che andava era una parte mancante adesso e una parte adesso mancante all'interno del portafoglio quindi la parte di materie prime anche se non strettamente magari indispensabile è comunque un qualcosa che voglio avere all'interno del portafoglio quindi sto valutando diverse opportunità di investimento sia per quanto riguarda singole aziende sia eventualmente per quanto riguarda ETF per andare ad avere anche una certa percentuale di portafoglio anche esposta a questo importantissimo settore e ad una particolare in realtà sottosettore delle materie prime ma non voglio anticiparvi nulla perché comunque sono in fase di ricerca e studio quindi sicuramente qualcosa di nuovo sempre all'interno delle materie prime ci sarà e andrà a far parte del nostro portafoglio però anche qui vi rimando appunto potete tranquillamente seguire il mio profilo così quando farò le prossime operazioni verrete tranquillamente avvisati direttamente dalla piattaforma fatemi quindi sapere quelli che sono le vostre opinioni su queste due vendite su questa chiusura di queste posizioni lasciatemi ovviamente qui sotto i commenti se anche voi avreste chiuso oppure avreste lasciato ancora maturare gli investimenti in queste due aziende o magari quali sono per voi invece i fattori chiave rilevanti che vi portano a chiudere delle determinate posizioni noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e buon dividendo a tutti